L'Isola dei Famosi 2018 L'Isola dei Famosi 2018, ecco chi è il vincitore della tredicesima edizione Lunedì 16 aprile è andata in onda la tessissima finale dell'Isola dei Famosi, il reality prodotto da Magnolia e presentato da cancelletto Alessia Marcuzzi. Dopo 82 giorni, Nino, Amauriz, Francesca, Bianca e Jonathan sono arrivati in Italia per giocarsi fino all'ultimo la vittoria della tredicesima edizione. Dopo l'ingresso in studio della conduttrice romana, quest'ultima ha ringraziato tutto il pubblico per l'affetto dimostrato in queste 12 settimane di programmazione. Successivamente ha chiesto alla regia di mandare in onda un video riepilogativo dell'avventura dei cinque finalisti in Honduras. A quel punto la Marcuzzi ha chiuso il televoto e ad abbandonare la gara, è stato inaspettatamente l'ex beffino Jonathan. Proposta di matrimonio in diretta, Cipriani quarta classificata. Dopo un breve intervento della Giallapas Band, la Marcuzzi ha fatto entrare in studio eliminata della settimana scorsa Alessia Mancini. La conduttrice le ha mostrato i momenti più belli vissuti in Honduras e poi l'ha fatta accomodare vicino agli altri ex-naufraghi. A quel punto i quattro finalisti sono stati divisi in due squadre, Francesca Nino e Amauriz Bianca e hanno affrontato la difficile prova del labirinto. La gara è stata aggiudicata da Perez e Azei, mentre la Cipriani e Formicola sono finiti al televoto. Quindi è entrata in studio la sesta classificata del reality Rosa Perrotta. Dopo aver visionato un filmato riassuntivo della sua avventura a Caio Cochinos, il suo fidanzato Pietro le ha fatto una sorpresa in attesa. Quest'ultimo ha chiesto alla ex tronista se voleva sposarlo, ovviamente lei ha detto di sì. Successivamente Alessia ha chiuso il televoto, l'ex pupa è uscita dal gioco mentre Formicola è rimasto in gara. Sterzo classificato, Nino Formicola si aggiudica lì solo a 13. Quindi è giunto il momento della prova del fuoco che inaspettatamente è stata vinta dalla cantante milanese Bianca. A quel punto Amaurice e Nino sono andati direttamente al televoto. Nel frattempo è arrivato in studio il quinto classificato Jonathan e come gli altri ex naufraghi, gli è stato mostrato il te best della sua avventura nel reality. La Marcuzzi ha chiuso il televoto che ha decretato la clamorosa uscita dell'ex pallannotista Perez. Quindi è stato aperto l'ultimo televoto della serata, questa volta in positivo, tra Azzei e Formicola. Nel frattempo è giunta nello studio Venti la Cipriani che come al suo solito, ha mostrato tutta la sua esuberanza. . Poi inaspettatamente, si è presentato Valerio Staffelli che ha consegnato un altro tapiro d'oro alla Marcuzzi per la vicenda Cannagate. . Successivamente è giunto anche Amaurice che ha ricevuto due bellissime sorprese, ha riabbracciato la moglie e ha visto un video dei suoi figli. . Dopo l'ingresso dell'inviato Cancelletto Stefano De Martino, finalmente i due finalisti si sono presentatati davanti alla conduttrice quest'ultima chiudendo il televoto. . Ha decretato Nino Formicola trionfatore DL Cancelletto Isola dei famosi 2018. . . Per leggere altre news sul reality Mediaset vi consigliamo di seguire il canale Isola dei famosi. .